Insieme, tutti insieme, come inquilini dell'ATC, come persone solidarie, come membri dei comitati popolari dei quartieri di Torino, per dire che l'ATC ricatta le persone e per smascherare una realtà che spesso viene taciuta e non viene detta dai media, non viene detta sui giornali. Tutte le starci! Siamo giusti! Stiamo arrivando, stiamo arrivando! Siamo i membri del comitato di Vallei per un centro, perché vogliamo incontrare il presidente di ATC, Mazzu, perché pensiamo sia responsabile dei problemi che ci sono nelle case popolari, pensiamo sia responsabile del fatto che alcuni di noi sono ammiracciati di essere buttati fuori di casa, perché la loro unica colpa è quella di non voler vivere per strada. Questo fa ATC di solito, ci prende in giro dicendo che vogliamo che ci danno degli incontri singoli e poi questi incontri singoli non hanno mai portato a niente. Per questo il signor Mazzu adesso se n'è andato e non vuole più parlare con noi, perché si rifiuta di dare un incontro collettivo. Noi vogliamo un incontro collettivo perché i problemi sono di tutti. Poi sappiamo Vallette, Madonna di Campagna, Procento, Panchiera, ci sono gli stessi problemi e noi vogliamo che questi problemi vengano risolti a tutti, non solo a quelli che sono qua. Vogliamo una risposta per tutti.